via con il primo pezzo di questa quinta puntata di tac tutta un'altra comicità lei è rita buonasera buonasera a tutti io sono rita e come dicevano appunto vengo da napoli però purtroppo non sono cresciuto in una tipica famiglia napoletana mi sarebbe piaciuto e invece no sono cresciuta con il corrispettivo partenopeo dell'educazione siberiana una sorta di calvinismo napoletano un metodo inventato dai miei genitori fondato su un unico fondamentale semplicissimo principio il no diciamo che i miei avevano adottato questo metodo con l'obiettivo ultimo di proteggere noi bambini di impedire che ci succedessero delle cose terribili angoscianti e pericolose tipo la vita stessa per esempio e quindi per adoperare questo metodo avevano una sorta di strategia bellissima e molto intelligente i miei genitori mi hanno convinto di essere poveri ma non poveri così poveri modello oliver twist poveri poveri livello piccola fiammiferaia no e avevano anche delle argomentazioni molto fantasiose per farmelo credere ad esempio quando avevo non lo so nove anni avevo detto mio papà che volevo iscrivermi a ginnastica artistica e lui mi aveva risposto no siamo poveri ma poi scusami rita se l'obiettivo è dimagrire perché vuoi fare ginnastica pagando quando puoi digiunare gratis non fa una piega oppure ancora a 18 anni volevo prendere la patente avevo chiesto a mia mamma la quale mi aveva detto di avere messo da parte con molto sacrificio i 500 euro per la scuola guida però poi purtroppo si era rotto il forno e quindi mi aveva detto rita noi siamo poveri e bisogna fare delle scelte scegli tu vuoi la patente o la pizza fatta in casa cioè potete biasimarmi se vado ancora in autobus 40 anni secondo me no comunque capite che questa cosa dei valori dei soldi della povertà su di me va attecchito benissimo quando ero bambina e avevo anche iniziato a fare una sorta di giochino strano nella mia mente praticamente funzionava così quando c'era un oggetto che secondo me era inutilmente caro io tendevo a immaginare quante cose per me utili avrei potuto comprare con gli stessi soldi è un po difficile da capire questo concetto senza un esempio praticamente la mia amichetta valentina quando aveva otto anni si era fatta regalare per natale la casetta di polly pocket che non so se sapete che cos'è è un giocattolo di merda cioè è una cosa questi pupazzetti piccoli così che non puoi farci niente l'unica cosa che puoi fare è inghiottirli arrivare vicino al soffocamento e giocare con gli amichetti al campionato mondiale di manovra di heimlich ora questa stronzata costava 90 mila lire e quindi io avevo elaborato la mia personale lista delle cose utili che avrei potuto comprare con le 90 mila lire della casetta di polly pocket al primo posto 60 numeri di topolino cose importanti per un bambino di otto anni oppure ancora 180 gelati cucciolone o ancora meglio 200 bustine di figurine panini che avrei finito l'album dei cavalieri dello zodiaco prima di tutti ma soprattutto 1800 e dico 1800 caramelle goleador tutte cose immensamente più utili della casetta di polly pocket detto ciò capite che comunque sia questa cosa del valore dei soldi su di me ha attecchito anche in un modo un po strano perché mi ha fatto crescere inutilmente tirchia cioè io sono tirchia anche per le cose per le quali non dovrei esserla tipo mi sono comprata casa e solo dopo aver comprato casa ho scoperto che ci dovevo mettere anche delle cose dentro tipo l'arredo e la biancheria ma non volevo spendere soldi e mi sono ricordata che a casa dei miei genitori per me c'era il corredo corredo era una sorta di galleria degli orrori realizzata per me dalla buonanima di mia nonna che era composta di batteria di pentole ovviamente una sorta una serie di lenzuola di lino con i bordi di merletto che non si stirano mai una collezione di meravigliosi centrotavola ricamati a mano con gli edelweiss che a napoli erano di un esotico una roba incredibile è una collezione di camicia da notte modello giovanna d'arco cioè talmente sintetiche che se ti giri nel letto prendi fuoco ma comunque talmente brutte che in ogni caso moriresti vergine quindi il problema non si può grazie ecco tutta questa galleria degli orrori io comunque la bramavo ardentemente l'ho chiesta mia mamma la quale mi ha risposto no te la do quando ti sposi bisogna capirla povera mamma lei è una donna che ci tiene la storia e quindi ci tiene anche a rispettare questa antica tradizione per la quale la figlia femmina in quanto femmina è inutile a generare reddito e quindi bisogna aggiungerle degli oggetti degli accessori per far sì che qualcuno se la prenda cioè che la compri cioè è il sistema mondial casa dove le pentole sono sempre le pentole ma in questo caso il materasso sono io è una cosa meravigliosa e vabbè comunque poi alla fine me l'ha dato il corretto è però a me comunque nella vita è rimasta quella cosa di fare quel giochino di trasformare il valore di una cosa troppo cara ed inutile nel valore di cose per me utili solo che sono cambiati parametri rispetto a quando avevo otto anni eh sì sono molto diversi per esempio a natale la mia collega ha avuto il regalo dal marito la kelly di hermes io non so se voi sapete che cos'è la kelly di hermes ma è una borsa cioè un oggetto che serve per portare altri oggetti e basta io ora non vi dirò quanto costa una kelly di hermes ma vi dirò il corrispettivo di cose utili che potrei comprare con i soldi di una kelly di hermes al primo posto mille spritz al secondo posto 200 pap test che potrebbero bastare a me e alle mie 10 migliori amiche da adesso affinché non crepiamo oppure ancora meglio una fiat panda 1100 del 2013 a metano e ho controllato la quotazione su quattro ruote prima di darvi questa informazione ma ah poi per i romantici 571 confezioni di durex settebello classic da 18 pezzi che vuol dire fare 10.268 volte l'amore ora quanto tempo ci mettete a fare 10.268 volte l'amore se lo fate tutti i giorni ho fatto i calcoli 28 anni se lo fate un giorno sì un giorno no 56 anni ma per molti 10.268 anni è inutile che ci nascondiamo ma soprattutto signori con i soldi di la kelly di hermes io potrei comprare 20.000 e dico 20.000 caramelle goleador grazie